Salve, sono Gemma Sbiraglio, ho 29 anni e ho conseguito il titolo di operatrice dell'infanzia presso l'Istituto Luigi Sturzo. Due anni fa io e mio marito avevamo un sogno, quello di aprire una struttura ludica nel nostro territorio che è Giuliano e abbiamo trovato un istituto accreditato dalla regione Campania, appunto l'Istituto Luigi Sturzo, che ci ha dato una formazione sia pratica che teorica veramente di eccellenza, con materie che spaziavano dalla psicologia all'educazione, alla materia legislativa e anche materia di primo soccorso per i bambini. Fondamentale per noi è stato poi il mondo pratico, di metterci a 360 gradi nella formazione pratica facendo appunto un tirocino in una scuola del territorio. Dopo due anni il sogno si è realizzato perché io e mio marito attualmente siamo titolari e operatori per l'infanzia presso la nostra ludoteca Baby Parking, sala per feste e Play for Fun, presente sul territorio di Giuliano che accoglie i bambini dai 0 ai 12 anni, dalle 8.30 del mattino fino alle 19, venendo così incontro alle esigenze delle famiglie presenti sul territorio. Voglio consigliare a tutti coloro che amano i bambini e hanno deciso di intraprendere un percorso lavorativo appunto con i bambini di appunto prendere e conseguire un attestato per l'operatore per l'infanzia presso l'Istituto Luigi Scruzzo. Vi auguro a tutti quanti di realizzare i nostri sogni come appunto abbiamo fatto il mio marito, augurandovi un buon carruppo e ciao a tutti.